È stata una visita molto importante, devo dire la verità, perché dovevamo fare il punto finale sulla consegna dei treni della metro. Il primo treno arriverà a febbraio, così poi ogni mese un altro treno. L'obiettivo, mettendo insieme una serie di adempimenti che riguardano Caffi, Taci, il Ministero, il Comune, l'obiettivo è partire subito dopo l'estate, settembre, partire con i passeggeri intendo dire. Però sono veramente entusiasta del lavoro che sta facendo questa grande multinazionale. Credo che sarà una storica rivoluzione della mobilità della nostra città. Quindi siamo tutti impegnati, sono voluti andare personalmente, ho incontrato i vertici dell'azienda, loro sono motivatissimi di realizzare i treni per la cittadinanza. Sindaco, poi ci saranno altri 5 che il Comune vorrà, ulteriori 5 che il Comune vorrà. La 19 significa andare a 5 minuti di transito per ogni treno, poi andremo a 24, significa avere treni con 6 carrozze, tutti collegati, quindi un unico treno, accesso per i diversamente abili, aria condizionata, wifi, anche il design, insomma veramente mi sono emozionato, devo essere sincero. Poi chiaramente stiamo sempre con i piedi per terra perché questo è il paese del superamento dell'ostacolo del giorno, però l'obiettivo di settembre è un obiettivo altamente probabile.